Un sit-in pacifico ma che rimarca la ferma volontà dei residenti di via Sicilia ad Arezzo, quella di dire no all'installazione di un'antenna della telefonia. Gli operai, dopo il montaggio del palo nei mesi scorsi, sono tornati sul sito a lavorare e la preoccupazione dei residenti è che l'antenna presto possa venire accesa. Il comitato dei cittadini, sorto proprio per stoppare i lavori, chiede con forza al comune di Arezzo di poter fermare questa installazione. E giovedì 26 settembre alle 17.30 si ritroveranno in strada in una riunione sit-in pacifico per invitare ancora una volta l'amministrazione comunale a fare qualcosa. In particolare si chiede di sospendere tutto fino a che almeno non sia terminato il procedimento di autotutela che deve stabilire se l'autorizzazione per quell'antenna è corretta oppure no. Dello scorso 19 settembre una nota congiunta proprio di Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo e dell'assessore Francesca Luccherini. Il procedimento di autotutela riguardo l'antenna, affermava Lucia Tanti, è in corso, siamo in attesa quindi di completare se avrà esito positivo. Mi preme sottolineare che le verifiche del caso, per norma, sono affidate ad un organo terzo estraneo alla politica. Non è un mistero, prosegue Lucia Tanti, per nessuno che sono stata tra coloro i quali hanno ritenuto opportuno dare il via al procedimento di autotutela. L'assessore Francesca Luccherini si era invece espressa sul piano antenne. Mi preme sottolineare, aveva detto che il piano in corso di redazione non è fermo ma è attualmente al procedimento obbligatorio di VAS, valutazione ambientale strategica, fondamentale strumento di supporto nel processo decisionale che caratterizza il documento. Una volta conclusa questa fase, diceva Luccherini, seguirà una parte partecipativa con la cittadinanza prima del passaggio in consiglio comunale.